Silvio Valdini, parliamo di calcio naturalmente, di calcio giocato, sono state due settimane in cui si è discusso molto intorno alla nazionale, una nazionale che ha messo in mostra alcuni giocatori di cui si era parlato meno di tanti altri, un po' in ombra, uno di questi è Valdifiori che tu hai allenato e quindi ti chiedo quanto sei stato sorpreso da questo giocatore. Sorpreso perché per arrivare a giocare nazionale bisogna arrivare al massimo livello nel campionato italiano, il massimo livello lo esprimono normalmente i giocatori che giocano la Juve, il Milan e l'Inter e il fatto che lui gioca nell'Empoli e sia arrivato in nazionale vuol dire che è un ragazzo che è maturato moltissimo, che è diventato velocemente bravo perché è il primo campionato che lui fa in Serie A quindi dopo 7-8 mesi si ritrova a giocare in nazionale vuol dire che questo ragazzo ha fatto che passi da gigante. Penso che questo lui se lo merita per come lo conosco io perché è una bravissima persona, un ragazzo con i piedi per terra, era un ragazzo molto umile e speriamo che questa sua avventura abbia la possibilità di continuare. Il calcio a volte si accorge tardi di certi giocatori che comunque hanno delle qualità, un altro esempio può essere Ederra anche se comunque anche lui aveva già fatto vedere il suo valore abbiamente. Sicuramente Ederra è un giocatore che ha qualche campionato in più in Serie A e quindi ha dimostrato di essere un attaccante molto valido, molto bravo e quindi era più fisiologico l'innesto di Ederra rispetto a quello di Valdifiori che ha appena questi 7-8 mesi di Serie A e quindi non è che ha una grande esperienza. Quindi ti ripeto, a volte tanti ragazzi come loro hanno la possibilità, speriamo proprio perché è il massimo che si possa esprimere in un campionato valido e che non sia il massimo che si possa esprimere in un campionato mediocre. Io essendo tifoso sia di Valdifiori che di Ederra mi auguro che il campionato italiano sia un campionato di grandi giocatori. Sei tifoso anche dell'Empoli, può fare il colpaccio contro l'Iventus? Guarda, io ti dirò una cosa, io ho visto l'Empoli giocare contro l'Inter e contro l'Udinese e credo di aver visto la squadra che gioca il miglior calcio in Serie A e quando una squadra si esprime contro queste squadre con un livello di gioco come ho visto io, lo può fare benissimo.